Musica Ciao a tutti, io sono Pex e questo è il canale di cattola il mondo dei prodotti musicali Tutto in italiano è direttamente il luogo simbolo della tarantina musicale La pietra Music Planet Musica Oggi parliamo di armonie, o meglio di armonizzazioni, si ma automatiche Quelle fatte dalla TC Helicon con il suo Voice Tone H1 Questo comodo processore tascabile è in grado di armonizzare tutte le nostre melodie E lo fa attraverso due metodi O impostando manualmente la tonalità O rilevandola automaticamente dall'accompagnamento di una chitarra La scelta delle voci armonizzate è mista E si distingue tra voci vicine, tipicamente delle terze E lontane delle quinte Grazie agli immediati controlli posti sul frontale Questo prodotto risulta l'ideale sia per cantanti e per cantautori e chitarristi Ma può anche essere inserito in un setup elettrico senza compromettere il suono della chitarra Detto questo sentiamo un breve esempio applicativo di questo Voice Tone H1 I was walking If someone say three years from now You belong gonna stand up and punch them enough Cause they all wrong I know the better Cause they'll save forever And never Who knew Ah, ok Questo prodotto risulta l'ideale sia per cantanti e per cantautori E per tutti quanti Per, 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 per E per, 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 per... Grazie per la visione!